Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Handek e oggi ragazzi con questo paesaggio che conoscete Siamo in un nuovo vlog Oggi ragazzi sto facendo questo video perché mi avevate detto Che dovevamo arrivare a 10 like nello scorso video E lo scorso video ha raggiunto i 13 like, 14 Che non me l'aspettavo Quindi ragazzi come promesso devo andare alla casa abbandonata Comunque ragazzi avete visto che ho fatto un aggiornamento Io ho messo la felpa o ho i guanti qua dentro Così almeno se ho freddo mi copro le mani Quindi ragazzi vi lascio il video e buona visione End up Ecco qua ragazzi sto continuando Ragazzi eravamo là in fondo Eravamo là in fondo E adesso qui dobbiamo fare tutto Sentiero fino a arrivare là in fondo Ragazzi avete visto ho messo i guanti Sono a meno non ho freddo Eccolo qua Quello lì ragazzi è un ammasso gigantesco Che adesso andremo a salirci sopra E adesso ragazzi proveremo a salirci In modo Oh cazzo Oh cavolo Guardate cosa ho fatto Ragazzi Faccio di corsa E ciao Oh porca Ragazzi ce l'abbiamo fatto salire Era là in fondo Purtroppo si è spenta la fotocamera Ragazzi non mi sono riuscito a riprendere tutto E comunque ragazzi Avevo solo la videocamera in mano Se non sarei riuscito a salire anche tranquillamente Ma c'avevo la fotocamera in mano Quindi ragazzi adesso Andremo là in fondo E ci sarà la casa abbandonata Siamo qua che è tutto rosa Non so perché E qua ragazzi Qui Dove ci sono tutte ste robe Ci dovrebbe essere un lago Ma è tutto Ah eccola là guardate là Là c'è il lago Non si vede bene Ma là in cima c'è il lago Per fare molte più views Non sarebbe un ponte più avanti Ma per fare molte views Ragazzi noi passeremo qua sotto Augurratemi buona fortuna Ragazzi vi avviso che se mi cade la fotocamera Non è impermeabile C'è Non ho la custodia per metterla Quindi Se cade bestemmio Ecco ragazzi Opla Qui ragazzi dove di solito vengono gli indiani E tutte le robe qua A dormire Roba da pazza Beh Dunque ragazzi noi continuiamo la nostra Andata Comunque eccola là Eccola là la casa È la casa abbandonata quella ragazzi Ragazzi Ora non dobbiamo fare molto rumore Ragazzi adesso parlerò Oh cazzo Adesso parlerò Un po' piano Perché Magari c'è qualcuno Quindi Ragazzi Andiamo Andiamo Qua Speriamo che non ci sia nessuno Sennò dobbiamo scappare via Se cado qua Non posso lanciare questo coso Ecco qua No mi sono bagnato Quindi teniamoci qua con la mano Dato con i guanti E andiamo Si stacca però Aspettate raga Oh cazzo mi sto Oh cazzo raga Questa qua è la situazione Ho un piede bagnato Tutto sporco E sono qua Incastrato Oh ho rotto un po' Aia Il titolo Stavo Stavo quasi per annegare Oh cavolo Dobbiamo vedere se c'è Ah 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 è una rosa È una rosa Zitti raga Zitti raga perché Potrebbe Sarci Guardate Non so se potete qualcosa Ragazzi è proprio abbandonata Ora ragazzi Dobbiamo salire qua Ragazzi Se incontriamo qualcuno Se incontriamo qualcuno Che caga Che caga ragazzi Se incontriamo qualcuno Quindi ragazzi È chiusa Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ok Siamo salvi raga Siamo salvi Ragazzi Guardate È abbandonata Ci sono delle bottiglie La dentro Ragazzi ma una volta Si poteva entrare È chiusa È chiusa ragazzi Comunque raga Se c'era Però guardate Ci sono dei piatti Io e un mio amico Avevamo fatto Saltare un petardo Là dentro Un petardo Un petardo Vi rendete conto Mannaggia È chiuso Però ragazzi Comunque questa qua È la casa abbandonata Per voi Per me è durato tanto Ma per voi Il video è durato poco Ragazzi Mica dovevo Un castello gigante È Sempre una casa abbandonata Ci metterò Le canzoni inquietanti sotto Ve la faccio già qua L'outro Perché non c'ho voglia Di Comunque ragazzi Se il video Se il video vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi Se non l'avete fatto Attivate la campanella C'era 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 Un signore in bicicletta Mi sono spaventato Questo video vi è piaciuto Su Instagram Su Instagram Zanchi a 05 Facciamo arrivare Questo video A 10 like E 100 visualizzazioni Si 100 visualizzazioni E Ragazzi Aspettate Saliremo In cima Alla collina Ma alla collina Aspettate In cima alla collina Quella là Vedete quella là In fondo E Ve lo farò vedere Nel prossimo video Comunque saliremo In una collina Molto alta Quindi ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate un like E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao